Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Lost Baby K. Questa puntata è dedicata ad alcuni dei personaggi dell'elite più importanti e a loro scandali, ovviamente. Quindi, ragazzi, entriamo subito nella juicy part di questa puntata, di questo episodio. Il primo nome e la prima storia di cui vi voglio parlare è quello di Barbara Daly Beckland. Allora, Barbara Daly Beckland conosce Brooks Beckland e siamo nel 1940 quando i due si sposano. Lei finge di avere una gravidanza in corso e quindi già qui abbiamo un primo segno di alcune cose che non vanno. Lei finge di avere una gravidanza, ma effettivamente la prima gravidanza vera e propria sarà quella del 1946. Da questo matrimonio nasce Anthony. Allora, è importante dire che Barbara e Brooks non stavano avendo il più felice dei matrimoni quando Anthony nasce. E il motivo è perché tutti e due stavano cycling through depression e quindi stavano soffrendo di depressione, avevano questi ritmi e quindi tutti e due avevano questa depressione ciclica che li colpiva. Quindi Anthony nasce in un matrimonio che già comincia a non essere felice, dove entrambi i genitori sono problematici. Anthony dimostra i primi segni di un qualche tipo di disturbo e tuttavia Barbara non solo li ignora, ma in un certo senso neanche fiera. Per esempio c'è una cena con amici dove Barbara mostra i disegni fatti da suo figlio Anthony e questi disegni riguardano figure umane insanguinate. Quindi a questo punto si dovrebbe pensare di portare il bambino in terapia. Niente, tutto questo succede. Anthony piano piano cresce. Ci sono dei comportamenti che vengono definiti un po' bizzarri, un po' strani. Ma arriviamo all'adolescenza di Anthony e qui praticamente le cose incominciano a svilupparsi in una maniera interessante. La prima cosa che succede è che Anthony porta a casa un male lover, e quindi un amante maschio. Barbara non è molto contenta di questo e quindi probabilmente da qui incominciano anche delle litigate tra Barbara e Anthony. Dopo un po' di tempo però Anthony porta a casa una ragazza, tale Sylvie. Succede però che qui la vita si complica ulteriormente per Anthony e per la famiglia Beckland. E il padre di Anthony, Brooks Beckland, incomincia una relazione con Sylvie. Quindi ovviamente c'è un age gap, una differenza di età. E ovviamente la prima cosa che succede in tutto ciò è che questa relazione si dimostra essere più seria di quello che si era pensato. Fino a quando Brooks chiede il divorzio da Barbara, Brooks Beckland chiede il divorzio da Barbara, e questo devasta la famiglia Beckland. Devasta Barbara tanto quanto Anthony. Siamo nel 1968, quando Beckland, madre e figlio, partono per una vacanza a Mallorca. Qui hanno delle cene a lume di candela, e Barbara vuole dimostrare a suo figlio chi è una vera donna, e come una vera donna si comporta. Apparentemente c'è una relazione incestuosa tra madre e figlio. È una relazione che completamente devasta Anthony. Quando tornano a casa hanno uno stupido litigio su un amico che Anthony vuole portare a cena, e che Barbara proibisce ad Anthony di portare. Fino a quando il ragazzo va, prende un coltello da cucina e uccide sua madre. Dopo averlo uccisa, ordina un Chinese take away, e poi chiama le autorità, e quindi la polizia, dicendo di aver ucciso sua madre. I poliziotti arrivano e Anthony Beckland sta ancora mangiando. Numero 2 Evelyn Nesbitt Siamo alla fine del 1800, quindi stiamo tornando indietro nella nostra linea temporale, quando incontriamo Evelyn Nesbitt. È una giovane donna, una modella di alto profilo, con la passione di recitare. Allora, la Nesbitt incomincia a recitare a teatro, e in una delle sue performance viene vista da un uomo, un architetto in vista, parecchio in vista, tale Stanford White, qualcosa come 40 volte. Ovviamente, essendo sempre un repubblico, Stanford White ha, a un certo punto, l'occasione di poter parlare con Evelyn Nesbitt. Lui ha 48 anni, lei ha 16 anni. Escono per fare una passeggiata a Madison Square Garden, e lui la riempie di champagne. Il problema è che la mattina dopo, la Nesbitt si trova a letto, con quest'uomo, completamente nuda, e non sa come ci è arrivata fino a questo momento. Evelyn Nesbitt sarà completamente devastata da questo episodio. Non ha assolutamente memoria di quello che è successo, e l'uomo sembra comportarsi in maniera totalmente normale. Quindi, che cosa succede? Succede che loro due, insomma, hanno, e finiscono questa breve relazione, e da lì in poi, la Nesbitt e sua madre si trovano in difficoltà finanziarie. Quando emerge il Prince Charming, quindi il Principe Azzurro, o quello che Evelyn Nesbitt pensa essere il Principe Azzurro? Conosce Harry Kendall Zou. Allora, Zou la aiuta finanziariamente, sia lei sia la madre. La manda anche un po' in Europa per riuscire a riprendersi, ma tutto questo non viene a gratis, non viene for free. Infatti, che cosa succede? Che a un certo punto, i due cominciano a frequentarsi, e lui, siamo in Germania, lui fa la stessa cosa che Stanford White ha fatto a lei. Quindi, una sera, la riempie di champagne, e le fa riprovare la stessa sensazione, e le fa rivivere gli stessi momenti che erano successi con Stanford White. Lei aveva confidato a lui, in un momento di fragilità, quello che era precedentemente successo, quindi, del fatto di essere stata stuprata, e lui sembra fare la stessa identica cosa su di lei. Lei riesce a ritornare a casa, e lei è ancora di più devastata da questa esperienza, però lui non è Stanford White, nel senso che, anche se questa cosa sembra essere successa, lui prova a rimediare per i successivi due anni, fino a quando i due effettivamente si sposano. Adesso non so dirvi esattamente i dettagli, ma anche perché questi sono ignoti a noi, ma sappiamo che, insomma, lui ha cercato di scusarsi. Adesso, loro due si sposano, e già questo la dice lunga, Though, sembra ossessionato dai dettagli più sordidi della vita di Nesbeth, e anche il tentativo di farle rivivere, effettivamente il fatto di farle rivivere, quell'esperienza, sembra indicarci che quest'uomo non è proprio salutare, all'interno di questa coppia, diciamo così. E ad ogni modo si sposano, si sposano e per il viaggio di nozze partono in questo grande viaggio che è programmato. Soltanto che Though porta per la prima fermata Evelyn Nesbeth a New York, e un'altra volta a Madison Square Garden. lì incontrano Stanford White, e questa sembra essere stata una cosa piuttosto programmata, e proprio Though, a un certo punto di punto in bianco, esce la pistola dalla tasca del cappotto e spara a White. Gli spara dicendogli tu hai rovinato mia moglie, e quindi fires, spara tre bullets, tre proiettili, e uno va alla testa, uno va praticamente nei denti, e l'altro va sulla spalla. Ovviamente Stanford White muore, praticamente sul colpo, e Though va in prigione. Though va in prigione, e questo sarà chiamato il processo del secolo, Evelyn Nesbeth prima sopporta suo marito, raccontando appunto quello che lei aveva detto a suo marito, e poi, quando la famiglia l'abbandona invece, turns against suo marito. E quindi che cosa succede? Che lei incomincia a dire in realtà questo non è vero, mio marito ha fatto tutto di sua iniziativa, lui non aveva delle basi per poter agire in questa maniera. A un certo punto, Though, quindi, files for divorce, e quindi chiede la separazione dalla Nesbeth, e i due si separano. Andiamo alla terza protagonista della nostra puntata di oggi, Hui Lan Ku. Allora, Hui Lan Ku è una erede, bella sicuramente, intelligente, è un po' eccentrica. Hui Lan Ku è una erede, erede indonesiana che ha un primo matrimonio con un uomo che lavora presso il consolato che si chiama Beauchamp Caulfield Stalker. Dopo un po' di corteggiamento, Beauchamp la sposa. La sposa e la porta in Inghilterra. Qui, sua moglie, in un certo senso, fiorisce perché l'ambiente inglese è diverso dall'ambiente indonesiano e si sente più libera, incomincia quindi ad essere una socialite, quindi a far parte dei salotti più importanti e a intrattenere amicizie di varia natura. Pusham Caulfield Stalker vede questo comportamento di sua moglie come non appropriato e nemmeno la nascita del loro figlio nel 1919 aiuta granché la coppia. Non la aiuta nel senso che ormai loro stanno crescendo apart, separatamente e a un certo punto lei decide di file for the worst, di chiedere la separazione. Lei decide di chiedere la separazione e tra i motivi cita crudeltà e misconduct, quindi una cattiva condotta. La Q dirà proprio che questo suo primo marito non le ha mai presentato i suoi genitori e la ragione adotta da Pusham Caulfield Stalker è che sua moglie non era degna di essere presenzata ai suoi genitori e quindi diciamo che c'era una bella frattura tra i due mettiamola così. Lei torna in Indonesia e sua madre comincia a agire come matchmaker e quindi a cercarle un fidanzato. Sua madre prova a cercare un fidanzato fino a quando non ci riesce e trova quest'uomo. Wellington Hu Wellington Hu è cinese il suo lavoro lo porterà a essere prima premier e poi presidente della Cina a Dintri quindi una posizione di assoluto assoluto prestigio i due sembrano felici ma la seconda guerra mondiale scoppia e la separazione dei due li condurrà a una separazione della loro coppia quindi la separazione fisica li condurrà a una separazione proprio legale della loro coppia questo nonostante i due figli che lei aveva avuto da lui e così si separano. protagonista numero 4 è Edoardo VIII non tanto lui quanto una sua amante precedente a Wallace Simpson Edoardo VIII era lo zio di Elisabetta II regina di Inghilterra fino a questo momento e Edoardo VIII è noto per aver abdicato il trono d'Inghilterra passandolo al padre di Elisabetta II proprio perché decide di sposare Wallace Simpson che era questa americana divorziata per cui le leggi della Gran Bretagna impediscono o impedivano a Edoardo VIII di rimanere al potere. Allora in realtà noi parliamo di Edoardo VIII perché stiamo parlando o perché vogliamo parlare di una sua fiamma precedente a Wallace Simpson che è Thelma Furness Thelma Furness ha un terribile primo matrimonio che però tutto sommato è breve poi ha un secondo matrimonio quando conosce Mama Duke Furness Mama Duke sembra l'uomo ideale per Thelma e hanno un inizio splendido hanno un inizio dove sono entrambi innamorati e quindi decidono di sposarsi fino a quando ovviamente non incomincia a esserci della distanza della distanza che è fisica e incominciano a emergere i gossip di Mama Duke e le sue numerose amanti avendo sposato Mama Duke la Furness era diventata viscontessa ed è proprio in qualità di viscontessa che era riuscita a incontrare una prima volta Edoardo VIII le voci sulle relazioni extraconiugali di Mama Duke continuano per altri tre anni fino a quando la prima figlia di Mama Duke avuta da una precedente matrimonio da una precedente relazione la invita a Leicester Fair qui proprio Thelma Furness rincontra Edoardo VIII inizia una relazione di amore spendono un weekend fantastico a Fort Belvedere e da lì incominciano la loro relazione vera e propria lei prenderà una piccola pausa da questa relazione quando Mama Duke la convince ad andare a Nairobi a trovarlo per recuperare il matrimonio tuttavia noi sappiamo che questo tentativo fallì nel senso che lei effettivamente decide di riprovare a ristabilire la relazione con suo marito ma subito dopo quel viaggio le cose non vanno bene per cui lei ritorna da Edoardo VIII adesso quando lei ritorna da Edoardo VIII sa perfettamente che lui non la può sposare perché lui è re del trono e di conseguenza questa cosa non è fattibile tuttavia lei è felice contenta e innamorata e anche lui sembra innamorato fino a quando la sorella gemella di Thelma Furness che vive in California la invita in California quindi lei parte per la California parte per la California e raccomanda alla sua amica a questo punto è facile immaginare che questa fosse una delle sue migliori amiche vale a dire Wallace Simpson di fare compagnia a Edoardo VIII non l'aveste mai fatto ovviamente inizia una relazione tra Edoardo VIII e Wallace Simpson che si conclude con il matrimonio come sappiamo e la predicazione come abbiamo detto e la Furness ritornando scopre delle telefonate che Edoardo stava facendo a Wallace Simpson per cui capisce che tutti e due l'avevano tradita l'amica da un lato e il compagno dall'altro lato e ne è assolutamente devastata ha un poco 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 di vendetta di revenge quando incontra il principe Alicron con cui ha una relazione ma sappiamo che muore il 29 gennaio del 1970 e muore andando all'ospedale e nella sua borsa ha ancora il piccolo teddy bear il piccolo pupazzetto che proprio Edoardo VIII le aveva regalato e quindi nelle parole di Gloria Vanderbilt Thelma Furness era sempre stata innamorata di Edoardo VIII ma diciamo l'ha giocato un po' ma nelle sue carte dando il compagno e con questo però voglio dire non era stata nemmeno colpa sua quindi cose che succedono mettiamola così allora allora protagonista numero 5 è uno dei cigni di Truman Capote questa donna definita come la donna più bella più affascinante più elegante della nuca siamo intorno agli anni della seconda guerra mondiale quando la fama di Gloria Guinness diventa internazionale allora Gloria Guinness aveva avuto un primo matrimonio che però è irrelevante a noi un secondo matrimonio invece con il conte von Wustenberg Franz Egan allora sappiamo che lei allegedly in maniera presunta durante la seconda guerra mondiale era a Madrid in Spagna sappiamo che alcuni hanno sostenuto che lei fosse neutrale altri invece hanno sostenuto che lei fosse una spia e che in particolar modo lavorasse per i tedeschi tra le sue amicizie ci sono infatti Adolf Hitler himself quindi insomma questo è difficile da conciliare dove siamo allora Adolf Hitler e Ermann Goering quindi due dei principali esponenti del nazismo il Führ stesso e Ermann Goering che era praticamente il braccio destro di Hitler per cui diciamo è possibile che lei sia stata una spia e ci sono dei rumors ci sono del gossip che sostiene questo era una donna estremamente intelligente ma una bugiarda patologica proprio e pathological liar una donna che inventava storie come cambiava la colazione e in altre parole era una donna che poteva uscirne da qualsiasi tipo di situazione per esempio lei diceva di aver avuto un padre rivoluzionario e una madre che era una lavandaia di umili origini nessuna di queste due storie è ovviamente vera fatto sta che a un certo punto lei nel 1940 divorzia da Franz Egan Kant von Wurstenberg e due anni dopo conosce Hamad Fakhri Bey che è grandson e quindi nipote del re d'Egitto con cui ha una relazione questa relazione dura un po' un po' di tempo non tantissimo però si chiude nel 1949 e nel 1951 lei incontra il magnate Guinness Thomas Leon Guinness allora anche la famiglia di Guinness non era proprio la famiglia perfetta era piena di scandali la prima moglie di Guinness lo aveva lasciato e aveva intrapreso una relazione proprio con Ali Khan con cui Thomas Furness aveva avuto una relazione e quindi qui la storia si complica ma insomma anche i Guinness non erano privi di scandali e Gloria Guinness contribuisce ad alimentare gli scandali questo perché prende numerosi amanti durante questa relazione tra cui David Betty e Duff Cooper comunque sia la relazione continua Gloria Guinness muore in circostanze sospette assolutamente sospette in Svizzera circostanze sospette perché gli amici penseranno proprio che lei si sia suicidata per la noia e per il senso di vuoto che provava nell'ultimo periodo allora ultima protagonista di questa puntata è sicuramente Gladys Dicken allora Gladys Dicken appartiene alla famiglia di Dicken che è una famiglia che emerge alle cronache purtroppo nere perché il padre trova la moglie a letto con un altro spara all'altro e poi va in prigione e quindi già questo è l'inizio della vita di Gladys Dicken a un certo punto lei conosce il duca il nono duca di Melborough il duca è allora sposato lo conosce una prima volta quando lei è ancora teenager quindi il duca a questo punto è sposato è sposato con Consuelo Vanderbilt e quindi così Gladys non riesce veramente a come dire a calappiare quest'uomo ritornerà qualche anno più tardi in questa visita di sei mesi alla loro tenuta e qui effettivamente riesce a da un lato essere amica di Consuelo Vanderbilt dall'altro veramente a iniziare questa relazione che durerà circa un ventennio con il duca di Melborough allora i due cominciano una relazione fino a quando non si sposano siamo nel 1921 questo matrimonio non sarà felice o non sarà tanto felice diciamo ma il motivo principale non sarà apparentemente l'infidelità ma tutt'altro lei è molto giovane ed è sicuramente più giovane di lui ma è ossessionata dalla sua bellezza a un certo punto emergono delle voci per cui lei va a Parigi a farsi operare vuole una operazione di chirurgia plastica che le possa dare un profilo greco quindi va a Parigi le iniettano nel naso e nella jawline quindi nella linea mandibolare cera composta da paraffina e quindi ha questa operazione chirurgica come potete immaginare succede che la cera transmigra nel suo stesso corpo nella sua stessa faccia e la lascia sfigurata a questo punto Gladys Deacon assumerà dei comportamenti sempre più erratici sempre più maniaci si chiuderà in silenzio e non vorrà vedere più molte persone gli amici raccontano dei comportamenti piuttosto bizzardi tra cui uno in particolare che sembra abbia avuto anche consuelo Vanderbilt che è quello di dormire separatamente dal suo marito il duca di Macbrough con un revolver nel letto e da sola questo perché non voleva che suo marito entrasse nella stanza e quindi ovviamente uno non si chiude a chiave ma usa un revolver mi sembra una soluzione brillante e così diciamo passa la sua intera vita e spende il resto della sua vita praticamente in solitudine allora ragazzi con questo è quanto allora voglio sapere che cosa ne pensate che cosa ne pensate di queste figure fatemi sapere le vostre opinioni commentate qui sotto anche se questo video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere tutti i nostri aggiornamenti noi ci vediamo alla prossima con un nuovo episodio di lo sapere i canali ciao 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 ciao